Buonasera amici di Nova News 24. Chi segue il Grande Fratello sa perfettamente che le novità e i cambiamenti sono sempre dietro l'angolo, e anche questa nuova edizione non sarà certo da meno. In casa le dinamiche non mancano, ma gli autori sono sempre pronti a scovare nuovi concorrenti per crearne altre. Ebbene, dalle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che tra i papabili nuovi concorrenti possa esserci l'ex fidanzato di Shaila Gatta, che indubbiamente scombussolerebbe non poco le dinamiche interne, mentre Signorini starebbe corteggiando anche due volti noti di Temptation Island. Scopriamo di più. Mentre all'interno della casa la bella Shaila Gatta si sta avvicinando sempre di più a Javier Martinez, il Grande Fratello sta escogitando un colpo con i fiocchi. Secondo ultimi rumors, infatti, l'ex fidanzato di Shaila potrebbe presto entrare come nuovo concorrente del reality. Parliamo in particolare del calciatore del Catania Salvatore Monaco, di cui la stessa Shaila ha già parlato più volte anche all'interno della casa. Attenzione! Potrebbe varcare la porta rossa Salvatore Monaco, Sasa. È la persona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Shaila. Però lei più e più volte ha parlato di quest'uomo come il suo prototipo ideale e ha questa mancanza di tanto in tanto. Ha rivelato Biagio D'Anelli sui social. Voci di corridoio sono arrivate quasi certe che pare ci sia una trattativa per un suo eventuale ingresso. Sempre che si trovi una quadra economica, a sostituire i soldini che prende a Catania. Mi è stato detto. Non mi è sfuggito anche che ci sia o potrebbe esserci un preaccordo tra i due. Da quanto riportato da queste indiscrezioni, dunque, non solo l'ex di Shaila potrebbe diventare un nuovo concorrente, ma i due potrebbero addirittura essersi messi d'accordo già in precedenza. Sarà davvero così? Staremo a vedere. Intanto, se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.